In telecliente, il numero da lei contattato non è più disponibile. Siamo trasferendo la sua chiamata al numero 414. E può contattare per accettare a questo servizio, a te la linea. Cos'è? Ma il tenuto è un podafone. Con questo servizio potrà conoscere la montagna del suo traffico telefonico non ancora fatturato e dare informazioni sui servizi attivite sul suo numero di cellulare. L'importo del traffico telefonico da lei generato dal 12 gennaio 2008 è indicativamente di 1 euro e 18 centesimi in livello di squeeze. Le informiamo che dall'importo comprende il traffico generato... 1 euro. Da quando? 12 gennaio. Fino alle 48 ore precedenti. Ieri praticamente. Devo ancora pagare la bolletta vecchia. Domani mi volevo pagare. Vuoi un mandarino? No. Guarda che se prendi un mandarino poi quando te lo vai a mangiare a casa tua... Ma ce l'ho un mandarino. Ti profuma l'ambiente? Ce l'ho anche l'ambiente. Ok. E non hai voglia? No. Ok. Vuoi provarti a casa delle liquirizie? No. Ti fanno bene per la pressione? No. Non mi dici di fare. Sì.